Due ufficiali della cavalleria napoleonica, Dubert e Ferrault, si sfidano in un assurdo duello sempre interrotto, ma che dura per tutta la vita. Solo nella vecchiaia, al loro quinto scontro in 17 anni, arriveranno a... no, niente spoiler. Tratto da un racconto di Joseph Conrad, quello di Cuore di Tenebra, Art of Darkness. La novella qua in gioco è Il duello, racconto militare, conosciuto anche come I duellanti. Questo di cui vi parliamo è però il film appunto tratto dai duellanti, film del futuro regista del 1977, del futuro regista di Blade Runner, Ridley Scott. Forse mai la letteratura con Conrad e Ridley Scott con il film hanno saputo rappresentare un odio più insensato e più durevole nel tempo di quello appunto occorso tra i due ufficiali. Forse però esiste un duello che può competere con quello del racconto di Conrad. Facciamo questa premessa per introdurre il pensiero e alcuni riferimenti popsofici al filosofo che troppo spesso viene ridotto con l'uomo homini lupus e il bellum omnium contra omnes. L'uomo è il lupo per l'uomo e la guerra di tutti contro tutti. Stiamo parlando di Thomas Hobbes e il duello lo ebbe con un accademico inglese, illustre matematico John Wallace, che nel 1655 pubblicò un saggio in cui annotava tutti gli errori marchiani di matematica presenti nei testi di Hobbes. Questi due continuarono con Acrimonia a scriversene e dirsene di tutti i colori fino al 1678 quando Hobbes scrisse libri come elementi di geometria dell'assurdo o il barbarismo di John Wallace, professore di geometria e dottore di teologia. Chissà se questa aggressività del filosofo nei confronti del cattedratico matematico inglese John Wallace derivava dal suo profondo pessimismo antropologico. C'è quella che Darwin chiamava la struggle for life, la lotta per la sopravvivenza, tutti noi, pensa Hobbes, vogliamo sopravvivere e per sopravvivere siamo obbligati, siamo obbligati ad essere egoisti e a pensare al nostro orticello. Il problema è che noi vogliamo prevaricare gli altri e gli altri vogliono prevaricare noi, per cui dobbiamo uscire dallo stato di natura nel quale ciascuno persegue i propri interessi e l'unica legge che vale è quella del più forte e per arginare la guerra di tutti contro tutti c'è la necessità di uscire da questo stato di natura. E come si esce dallo stato di natura? Cedendo a un sovrano una porzione della propria libertà per addivenire a una condizione di sicurezza. Sappiamo che il potere del sovrano è illimitato e se così non fosse si verrebbe a creare nuovamente una situazione di conflitto, ma il sovrano è colui che stabilisce che cosa è legge, il sovrano è superiore alla legge, ma il sovrano stabilisce anche che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e cosa non è sottoposto e non è sottoposto al giudizio morale dei suoi sudditi. Non può solo, se ricordo bene, mettere a morte, ma per il resto può fare praticamente quasi tutto e sono appunto i sudditi a renderlo col Leviatano, con questo patto, con questo mostro che è composto da tanti piccoli corpuscoli che sono i sudditi che messi insieme tipo jigsaw, tipo puzzle, costituiscono il sovrano. Perché è importante Hobbes? Perché è un pensatore che ha collegato la tradizione filosofica anglosassone, fino ad allora marginale nel panorama europeo, con il dibattito che andava sviluppandosi nel continente. Inoltre è soprattutto per via della sua opera che l'empirismo e il nominalismo trovano una nuova formulazione grazie alla quale queste due tendenze sono entrate nel dibattito posteriore. Anche il discorso sul linguaggio che fa Hobbes non esiste alcuna realtà, siamo noi che diamo senso e significato al linguaggio. Di fatto possediamo solo appunto nomi. Hobbes è inoltre il primo prevenziatore tra quelli ispirati dalla rivoluzione scientifica a dare una lettura radicalmente materialista e meccanicista del cosmo. Che cosa è vivo ancora oggi di Hobbes? Beh, le teorie logiche e fisiche di Hobbes sono state superate dagli sviluppi del dibattito. La sua teoria politica rappresenta invece ancora una pietra miliare del dibattito politico, nonché un punto di riferimento imprescindibile del pensiero conservatore e in America per esempio repubblicano. Ma arriviamo, parlando di Hobbes, arriviamo ai suggerimenti popsofici. Parlando di Hobbes e dell'omomini lupus, è inevitabile che il pensiero vada alla licantropia e alla vasta filmografia sull'argomento. Il film che proponiamo qua è un cult, un lupo mannare americano a Londra del 1981, diretto da John Landis in Stato di Grazia, un anno dopo. Lo Stato di Grazia gli veniva già dall'anno precedente, quando licenziò nelle sale cinematografiche quel gioiello dei Bruce Brothers. Tuttavia, a parte le assonanze, esistono opere molto più obsiane, tutte incentrate sul lato oscuro e violento della natura. Nel campo della letteratura un classico è Il Signore delle Mosche, Lord of Flies di William Golding del 1952, pubblicato nel 54, che narra le vicende di un gruppo di bambini in afrachi su un'isola deserta che si trasformano a poco a poco in un branco di selvaggi, cioè tornano all'obsiano stato di natura. Una trasposizione quasi letterale del concetto di Leviatano-obsiano si può invece trovare in un racconto di Clive Barker dal titolo In Collina, le città contenuto nella raccolta Infernalia, edito da Sonzogno, 1884, in cui gli abitanti di due paesini si uniscono a formare due esseri giganteschi per combattere l'uno contro l'altro. Ed è subito Venom, fra i tanti. Nell'ambito del cinema, invece il lato mostruoso dei minacciosi della natura, trova uno dei suoi migliori rappresentazioni in un tranquillo weekend di paura, diretto nel 1972 da John Borman, che racconta le disavventure di un gruppo di amici che tentano un ritorno alla natura con esiti assolutamente catastrofici. Parte come la vacanza e succede di tutto, di più. Significativo e sarcastico è il titolo originale del film Deliverance, Liberazione. Il principio psiano dell'uomo mosso dall'egoismo, dagli interessi personali, trova buona applicazione nei film noir, in cui spesso si applica il principio che dividere il bottino in due è meglio che dividerlo in tre, e ancora meglio è tenersi tutto il malloppo. Per vedere questo principio in atto, a parte il celebre Il Buono, Il Brutto e Cattivo di Sergio Leone, che appunto vede questi tre in lotta per mettere le mani rapaci su un bottino nascosto in un cimitero, nel cimitero sedil, ma in questo caso vi vogliamo ricordare un film meno noto, naturalmente non per i cinefili, ma per l'utente medio, mettiamolo così, e si chiama Soldi Sporchi, che è stato diretto nel 1998 dal mago del brivido Sam Raimi, autore già della casa, casa 2, armata delle tenebre, che sono dei capolavori, ma in questo film in modo particolare Raimi si focalizza, punta i riflettori appunto sull'avidità, sull'avidità umana. Come dire, in campo politico Hobbes ha ancora molte cose da dire e ci dispiace che Wallis e lui abbiano trascorso buona parte della loro esistenza a insultarsi il latino, però, mettiamola così, se ognuno avesse fatto il suo lavoro, cioè se Hobbes non si fosse occupato di matematica, magari sarebbero andati molto più d'accordo.